Lettera degli avvocati Alfonso Amato, Mario Conte e Pierluigi Spadafora in merito al caso giudiziario che ha riguardato Emanuela Botti, legale rappresentante del caseificio La Bufalat SRL. I difensori della signora Botti nello specifico sottolineano la totale straneità della loro assistita ai fatti, così come contestati dal pubblico ministero. Il fermo eseguito su ordine del PM, scrivono i legali, nei confronti della signora Botti è stato ritenuto illegittimo dal GIP, mentre l'ordinanza di custodia cautelare da questi resa il 5 giugno 2021 è stata annullata dal Tribunale del Riesame di Salerno con provvedimento del 21 giugno 2021, che ha ritenuto insussistente il reato di tentata estorsione, ravvisando invece solo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per cui ha rimesso immediatamente in libertà la legale rappresentante della Bufalat SRL. In buona sostanza la signora Botti, continuano i legali, non poteva essere arrestata e trattenuta per 18 giorni in stato di custodia. Il Tribunale ha riconosciuto che i contatti intercorsi tra la signora Botti ed il denunciante debitore erano finalizzati solo al recupero del credito vantato dalla Bufalat SRL per l'importo di 68 mila euro, essendo già oggetto dell'azione civile promossa dinnanzi al Tribunale di Salerno. Come incontrovertibilmente emerso dalle approfondite indagini, concludono gli avvocati, la signora Botti e la Bufalat SRL non hanno avuto, non hanno e non avranno mai rapporti con ambienti malavitosi, avendo sempre agito nel rispetto dei canoni della legalità, moralità e correttezza, grazie ai quali possono vantare rapporti commerciali con aziende di primaria importanza di livello nazionale ed internazionale.